musica 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 vieni qua vieni qua vieni qua mannaggia vieni qua no ti faccio fuori stavolta stavolta ti faccio proprio fuori uh aiuto 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 oh mio dio dov'è mannaggia mannaggia dove sei aia non riesci a colpirmi però vieni qua aia stavolta veramente ti faccio fuori strano che ti sei messo l'armatura eh proprio strano che ti sei messo l'armatura eh c'hai paura di me stavolta c'hai paura c'hai paura di me stavolta aiuto vieni qua vieni qua vieni qua porca miseria vieni qua vieni qua adesso riesco a rompertela l'armatura se riesco a rompertela aia aia ok ci sono che però amico di light vieni qua dove sei dove sei ok ce la posso fare aiuto nonostante tutto ho affrontato anche di peggio quasi beh oddio non direi però parca miseria come è possibile come è possibile dove sei madonna ma ui 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 spero di non farmi colpire aiuto beh allora 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 va colpire come se ti stecco aia come è possibile che non ricevi quasi niente di danno aha ho spaccato un pezzo di armatura aha adesso adesso andai sono sicuro di buttarti giù sono sicuro di buttarti giù sono sicuro di buttarti giù aha un altro no hai rotto me mmm un altro sentito forza avanti è tutto quello che è tutto qui quello che sai fare eh è tutto qui è tutto qui quello che sai fare perfetto ok dove vai ui dove vai beh allora dove va ui che succede ma che scusami T-Light aiuto aiuto signore prenda il mio nucleo per attingere nuovi poteri ma che ca- aiuto sono bloccato ma che aia ma che ca- che succede e mo aia ma che ca- che succede mo beh ma che sta cosa scusa aia scusami ma ma che sta cosa a mo ah ehi sta buono di la- aia di light aiuto di light che sei tu aiuto aia porca miseria dirai mi rispondi per favore aia aia che miseria beh aia aia non mi dire mi dire che cosa sto pensando battevo no no dai ma ti prego no 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 io veramente io mi rifiuto finchè si tratta di combattere contro un outsider ok a contro un mio amico no dai oh porca miseria aiuto aia che miseria lo so che mi colpisce anche da lì di light dai veramente va per no dai vabbè devo proprio porca miseria non mi faccio niente dai pure si ricomincia anche con l'arco miseria aia 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 porca miseria che porta ma perché ma perché devo fare proprio contro non riesco neanche più a distinguere se è outside lui la stessa cosa praticamente aia 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 che miseria light mannaggia torna in te torna in te non ti voglio uccidere aia 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 l'ho sentito l'ho sentito vieni qua light ripigliati 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 aia aia dove sono? ok aia ho preso ho preso ho preso per fortuna che aia riesce a colpirmi si è no per fortuna diretti prego aia se sei di dentro rispondimi riprenditi torca aia di una miseria aia 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 parca miseria parca miseria ok basta dove sono? vieni qua aia vieni qua vieni qua parca miseria aia aia aiuto ma scusa veramente veramente così veramente no ma che cazzo sta succedendo luca lu luca 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 aia fermo lì aia ma che cosa è successo? ah dimmi non puoi capire eh lo so che non posso capire lo sto chiedendo a te cosa è successo? cosa è successo? outsider e delight eh cosa? si sono uniti davanti ai miei occhi in che senso si sono uniti? hanno fatto una specie di fusione che hanno conosciuto in questo mondo? tecnicamente è stata reciproca la cosa perché cioè stavo messo bene solo che poi cioè l'anima è uscita e ha colpito di light ma con forma di azione è un po' complicato da spiegare ok mi dirai tutto dopo adesso hai presente quando stavate stavano distruggendo tutto? si qua io sono riuscito bene o male a recuperare la forma da pistrello e liberare la città così che almeno non c'erano morti o comunque cercare di fare il possibile sono riuscito a rassicurare un po' tutta la gente qua sotto sono riuscito a cominciare a uscire da questa isola e e quindi sono salvi quindi tendenzialmente siamo riusciti più o meno a stamparla ah non so se ce la faccio io ah ma come no? di sicuro ci saranno dei medici qua giù che ci potranno dare una mano cioè è impossibile tipo conviene che te ne vai fidati perché me ne dovrai andare scuso? non lo so ti ho appena detto che ti salveremo perché cavoli me ne devo andare secondo te io ti lascio qua non so se hai molta scelta anche perché non so se ce la faccio vai non vado via t'ho detto adesso piano piano riprendere le forze ti prendo per un braccio e ti porto giù ok non so come farò perché sono un pipistrello ma mi inventerò qualcosa fa come vuoi grazie era ora che ti decidessi eh papà questo è quello che ho fatto mio figlio non me ne vado t'ho detto ho appena salvato tutta la popolazione e non riesco a salvare te Luca? 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 Grazie a tutti.